Ciao a tutti, sono Simone Barlam e ci tenevo in primis a ringraziare infinitamente la giuria per avermi selezionato per questo premio, questo riconoscimento fantastico, che sono veramente onorato e sono contentissimo che Daniela, la presidentessa della Polavarese, che è la mia società, sia lì con voi appunto per ritirarlo al posto mio, perché è importante che appunto, diciamo, venga appunto dato del merito alle persone che lavorano dietro all'atleta e Daniela si fa in quattro per permetterci di fare le trasferte in giro per l'Italia e non solo, per sostiene la nostra preparazione, perciò è giusto che si prenda questo grande applauso che le farete, purtroppo io non posso esserli fisicamente con voi perché appunto durante la premiazione sarò a Lignano Sabbiadolo per una tappa della World Series in preparazione degli europei di maggio di Funchal e poi delle Paralimpiadi di Tokyo che sono, diciamo, l'appuntamento clou della stagione e che dire, grazie ancora infinitamente per questo premio, spero che la mattinata a Reggio vada perfettamente, che tutti vi stiate divertendo e grazie ancora per questo riconoscimento. Ciao!